Grazie, spero che mi sentiate, se non mi sentite mi fate agitatevi. Bene, innanzitutto vi ringrazio molto per l'invito, vi ringrazio anche per la pazienza perché immagino che tutte e tutti voi siete super stufi di stare davanti a uno schermo e vedere una testa che parla di qualsiasi tipo, quindi mi sento molto in colpa di sottomettervi a questo tormento ancora una volta. Dunque, sì, la storia della mente, secondo me la storia della mente a cosa può servire in questo ragionamento? Non credo che valga la pena che vi faccia grandi chiacchiere sulla storia dell'ambiente, la disciplina, eccetera. Io penso che una cosa a cui serve la storia dell'ambiente in questo ragionamento è innanzitutto storicizzare la natura, storicizzare l'ambiente, no? Cioè in qualche modo noi veniamo da una tradizione come dire scientifica, culturale, di saperi che ci dice, che ci diceva, che ci continua a dire che ci sono due strade diverse, c'è una forte separazione, da una parte ci sono le società, dall'altra ci sono le ecologie, i sistemi ecologici, eccetera. Queste due cose, il massimo che possono fare, si scontrano con, come dice la narrativa, quella mainstream più forte in questo momento, la narrativa del cosiddetto antroposcene, l'era degli umani, no? Si scontrano con gli umani che, come si dice in italiano, che plasmano l'ambiente intorno a loro in maniera molto forte al punto da distruggerlo, no? Questa è la narrativa più conosciuta, più forte, più mainstream in questo momento. La storia dell'ambiente quello che fa innanzitutto è storicizzare che l'ambiente intorno a noi, l'ambiente intorno a noi non è solo intorno, in realtà è mischiato alle nostre storie ed è mischiato alle nostre storie in maniera profonda, ossia nei processi socio-ecologici che producono insieme società e ambienti, ma anche nei processi, come posso dire, invece più culturali, narrativi, che producono, per esempio, una narrazione sull'ambiente. Vi faccio un esempio per tutti, no? Per noi, l'ambientalismo, quello più tradizionale, quello, diciamo, degli origini, era un ambientalismo che si potrebbe definire, no? Molto della separazione. Cioè l'idea era tutto va alla malora, sì, si potrebbe dire, e nasce sostanzialmente, diciamo, intorno alla rivoluzione industriale, no? E poi alla seconda rivoluzione industriale, cioè le città, le fabbriche, l'ambiente in cui viviamo è un ambiente contaminato pieno di fumi, di un ambiente brutto, tuttavia il weekend ce ne andiamo in un posto bello, ce ne andiamo soprattutto se abbiamo una macchina, se abbiamo i soldi per andarci, se abbiamo il tempo e la possibilità di andarci, no? Una natura appunto di questo tipo qui. E l'invenzione cosiddetta della wilderness, della natura selvaggia, nasce negli Stati Uniti, questa invenzione, e dove sta? Sta soprattutto nel West americano, dove l'idea era che appunto c'era una natura selvaggia mai toccata da mano di umano, come si diceva, ovviamente facendo, cancellando con un colpo di spugna la storia di tutti i nativi, le native che invece abbiamo abitato lì. Quindi storicizzare l'ambiente, storicizzare anche le narrazioni intorno all'ambiente, per esempio storicizzare questa idea di natura selvaggia, no? Ma al tempo stesso, anche se posso usare questo termine, diciamo, trovare ecologizzare il nostro ragionamento sulle società. Le società non sono indipendenti dagli ecosistemi intorno a loro e non sono indipendenti perché non solo dipendono da quegli ecosistemi, ma non sono indipendenti perché in qualche modo poi in quegli ecosistemi trovano a volte spesso le narrative che, diciamo, costruiscono e riproducono dei rapporti di potere. E da questo punto di vista sono molto d'accordo con quello che dicevi tu all'inizio. Io sono stato uno di quelli che ha molto criticato questa retorica sulla natura che torna, a volte ritornano, no? Innanzitutto perché non credo che nessun progetto progressista e di cambiamento radicale, fatemi dire, di cambiamento rivoluzionario, passa sui cadaveri dei poveri, cioè passa sui cadaveri di tanti che sono morti di Covid-19, che si sono ammalati, non passa sull'ineguale distribuzione dei vaccini, non passa sul fatto che gli appelli a lavarsi le mani venivano fatte da questi influencer o da questi VIP in queste case. Io ricordo di aver visto uno che faceva questo appello, state a casa, state a casa, e sullo sfondo di questo salone da cui parlava c'aveva un pianoforte a coda. Io non sapevo se ridere o buttare una cosa contro lo schermo o semplicemente provare a fare il solito ragionamento e dire, ma guardate che in realtà la casa non solo non ce l'hanno tutti, non solo tutti hanno un reddito tutti i mesi, non solo la casa, è la casa non sempre un posto sicuro, no? Pensate per quante persone la casa in realtà è un posto di violenza. Dunque, quello che stavo provando a dire, finisco qui così poi continuiamo un po' a girare su queste cose, quindi questa narrativa sulla natura che torna indietro, oppure questa narrativa, non so, a volte si dice imitiamo la natura, eccetera. Io penso che un progetto rivoluzionario, progressista, di radicale trasformazione è un progetto che prova a essere, come dicevi tu, intersezionale, che non deve essere intersezionale, deve essere anche antispecista, ma conserva secondo me un tratto, come potrei dire, di visione sul futuro progressista che viene sostanzialmente, e dove progressista non me lo fraintendete, non significa un campo politico che corrisponde al voto a un partito in questo momento, vuol dire un campo che immagino una società più giusta, una società dove i rapporti di potere vengono rovesciati, no? E tutto questo secondo me non è la natura dettarci, secondo me, l'agenda, la verità. La verità è che bisogna ripensare il ruolo, diciamo, delle società umane, il ruolo degli umani dentro la natura, ricordandosi che la natura non sta solo là fuori, sta anche dentro di noi, e con questo finisco, cioè la verità è che poi la storia dell'ambiente è una delle cose che ci insegna, è che c'è stato sì l'ambientalismo, quello dei parchi nazionali che vi raccontavo prima, della wilderness, del weekend fuori porta o magari fuori stato, se sei in America, negli Stati Uniti, ma c'è stato anche l'ambientalismo operaio, c'è stato anche l'ambientalismo delle lotte, di chi ha capito e ha raccontato che lo sfruttamento del capitalismo riguardava sempre la natura là fuori e anche la natura qua dentro, i corpi degli operai, degli operai, di chi viveva in comunità marginali, di chi subisce e paga il prezzo del benessere di qualcun altro, questa ineguaglianza rimane secondo me la chiave per denaturalizzare, la storia che fa denaturalizza il presente, il presente come deve essere, ma è semplicemente il frutto, come dire, delle lotte vinte e molte perdute del passato, perché la lotta di classe non è che è finita, è semplicemente che la stanno facendo loro e sembrerebbe che la vincano pure, insomma. Mi fermo qua, non so se ho risposto alla domanda, ovviamente, ma insomma.